Nel pomeriggio di venerdì 5 aprile, a Valderici, i carabinieri della locale stazione, durante un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto Alessandro Di Giovanni, ericino 21enne, disoccupato, con precedenti di polizia e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dopo l'arresto per violenza e minacce del 2018. Intorno alle ore 15, in seguito all'allarme di manomessione del braccialetto elettronico dell'uomo, una pattuglia ne verificava l'assenza dalla propria abitazione. Le ricerche sul territorio di Valderici hanno permesso di ritracciare Alessandro Di Giovanni e di constatare all'interno dell'appartamento dell'uomo la distruzione totale del braccialetto elettronico. Tratto in arresto per il reato di evasione al termine della formalità di rito, Di Giovanni è stato tradotto presso la casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani, in attesa di rito direttissimo a disposizione dell'autorità giudiziaria.